Lasciamoli ai cani! Acelerate il ritmo! Acelerate il ritmo! Acelerate il ritmo! I bastardi mi hanno preso! Morirò dissanguato! Sarai benone! I bastardi mi hanno preso! Qualcuno mi sente? Sono a terra! Ci serve al nostro bianco! Esploratori operativi e di Veneta! Sto ricaricando! Sono carne morta! Uno per l'altro! Qualcuno mi sente? Sono a terra! Devo ricaricare! Esploratori debiti in volo! Stanno per morire! Gli esploratori sono in volo! I nostri esploratori sono in volo! I nostri esploratori sono in volo! Mi ha fatto! Questo mi ha fatto! Invece il mucontro! Chiara è in volo! Chiara è in volo! Chiara è in volo! Non perdete tempo! Ora di carico! Esploratori, pronto a mandare! Sto ricaricando! Morirò distancuato! Gli esploratori sono in modo! Basta piangere, insomma! Sto ricaricando! Sto finendo le munizioni! Eccone uno! Vediamolo d'occhio! Ricarico! Ricarico! In piedi! Gli esploratori sono pronti! Qualcuno mi cerca! Sono a terra! Il nemico usa gli esploratori! Eccone uno! Devo ricaricare! Eccone uno! Cosa! Il nemico! Fai! O Cosa! Cosa! L'agil-agil! Eccone uno! Cosa! Noi! Cosa! 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 Esploratori operativi è di vedetta! Cazzo, sono ferito! Ritorno a combattere! Uno e uno! Ricarico! Ora ricarico! Donatevi una mossa! Tegnevolo d'occhio! Ora ricarico! Non è ancora giunta la tua! Allora, portate a andare! Oh! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Venite qui, sono a te. Non puoi mollare! Ah, ah, ah. Occhi aperti! Dimenticate il dolore! Dimenticate il dolore! Occhi aperti! È ora ad alzarsi! Attacco fisico, pronto a tutto! Sta arrivando il gas velenoso alleato! Ah, 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 ah! Sentite! Uno, venga qui! Muovete il culo! Ah! 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 Beh, niente male per uno dei selvaggi! Mi lasciate andare? Per stavolta! Tieni! Ben fatto! Grazie! Non male! Buongiorno! 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 Grazie a tutti.